Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un prodotto che ho acquistato e che sta spopolando. Questo si acquista tranquillamente su Amazon, su AliExpress, su Wish, insomma su qualsiasi sito. È un prodotto coreano e si tratta di una maschera purificante e questa nello specifico è della Bioacqua, che è una marca coreana molto famosa, e si tratta della Carbonated Bubble Clay Mask. Quindi una maschera all'argilla, che spregiona tantissime bolle. Ora vado ad aprirla insieme a voi. C'è il sigillo di Bioacqua. Allora, abbiamo la crema e una piccola spatola in una bustina separata. Apriamo la crema. La crema si presenta in questo modo qui. Andiamo a spolverla. Si vedono le bolle. Anche sulla spatolina si vede. Ed eccola qua. Allora, se la confezione dice di attendere 5 minuti, dopodiché massaggiare per un minuto affinché il prodotto vada bene all'interno dei pori e li pulisca molto molto bene. Dopo decidi di risciacquare con acqua calda e di utilizzarla 2-3 volte alla settimana. Ora massaggiamo. È morbida. Vediamo adesso cosa succede. Si stanno riformando le bolle. Ricciacquiamo. E dopo aver lavato il viso, la mia pelle appare più luminosa, compatta, più liscia, più morbida. È anche pulita perché non ho più punti neri e imperfezioni. È completamente pulita. Beh, io questa crema, questa maschera la promuovo a pieni voti sicuramente e la riutilizzerò ancora. È una maschera buonissima. L'unica cosa c'è scritto di fare molta attenzione per chi ha la pelle sensibile. La mia pelle non è sensibile a questa crema. Mi sento benissimo, liscia, fresca, pulita. Bene, mi piace. Poi è una maschera facile da usare. Si lascia in posa solamente 5 minuti e dopodiché si risciacqua. Si massaggia un minutino e poi si risciacqua. Quindi è veramente molto molto semplice. Bene, io con questo video ho terminato. Fatemi sapere se anche voi avete già provato questa maschera, che cosa ve ne pare. E se vi interessano altri video di questo tipo. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!